Agente riconosciuto 5 Tu hai una moglie e una pensata? 4 3 Chiunque sia io la troverò 2 Ne farò del male 1 E poi ti ucciderò proprio davanti a lei Che cos'è che non puoi dirmi? Azioni È una macchina così bella Vai, 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 vai È alto So che è alto Non otterrai mai quel che vuoi Non credi che lo farò Ascolta la vicenda Che cos'è che cos'è